Domani 31 maggio alle ore 18 ad Agropoli nuova seduta di Consiglio Comunale dove si discuterà dei seguenti argomenti. Modifica regolamento per la compensazione delle entrate comunali approvato il 16 ottobre 2018, approvazione nuovo regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno, approvazione nuovo regolamento area di sosta del porto turistico di Agropoli, sostituzione dei membri commissione consigliare permanenti cultura beni culturali pubblica istruzione commercio insediamenti produttivi sanità politiche sociali innovazione tecnologica e turismo sport e spettacolo.